La definizione di libertà è l'infinito valore dell'essere umano. La definizione di male è la distruzione della libertà. Ogni cosa malvagia insegna alle persone di avere un valore limitato. La verità è sempre semplice. Ogni persona riconosce la verità perché ogni persona è un essere intelligente. Bella natura del male crea idee artificialmente complesse. Lo fa per nascondere o oscurare la libertà che distrugge. Se rimuovi dalla tua vita le complessità e le paure, troverai una verità bella e semplice. Questa verità è la natura del tuo valore. Capire la libertà è comprendere il valore di una persona. Il male vuole solo camuffare e distruggere il tuo valore. Ogni autorità è creata da uomini stupidi e malvagi per occultare il tuo valore. Capire il tuo valore è comprendere la natura della libertà. La chiave fondamentale per capire il nostro mondo è comprendere la natura del male. Il male sfida il valore delle persone negando loro l'opportunità di fare le proprie scelte, negando loro la possibilità di crescere forti nell'apprendimento e nella comprensione. Mentre il male cerca di distruggere e nascondere il valore di una persona, la libertà mostra agli uomini il loro pieno potenziale e valore. Con la libertà le persone hanno amato, curato malattie, eliminato la fame, alleviato fatiche e vissuto in pace. Con la libertà la felicità è possibile. La libertà è l'esatto contrario del male. La lezione di questo libro è semplice. Non c'è nulla al mondo che abbia più valore di te. C'è un'oscura cospirazione che ha offuscato le menti dell'umanità in tutte le epoche. Questa cospirazione è il male incarnato e controlla montagne di emozioni umane, lavoro, pensiero, parole. È stata responsabile della morte di centinaia di milioni di persone e della schiavitù di quasi ogni essere mai vissuto. Se puoi accettare un solo principio, che ha il valore infinito, allora questo libro ti darà la visione necessaria per vedere il mondo come è realmente. Per sapere una volta per tutte che questa oscura cospirazione non è forte ma debole. Che il male non sta crescendo, ma morendo. Per capire come il male controlla la gente è necessario capire la differenza tra principio e legge. Un principio è una verità che crea libertà, una legge è una menzogna che crea schiavitù. Dei principi descrivono la realtà. Sono conoscenze che ti aiutano a far uso del tuo mondo. Grazie alla tua intelligenza riconosci i principi in tutto ciò che fai. Ogni cosa vera che impari è un principio. I movimenti delle tue mani, la matematica e l'empatia sono tutti basati su principi. Le leggi sono idee artificiali creati da uomini malvagi per limitare il pensiero e la comprensione delle persone. Le leggi si mascherano da autorità così da poter impressionare i principi. Quando le persone scambiano la legge per un principio, la loro libertà viene limitata. Quando le persone scambiano la verità per le idee dell'autorità, la loro abilità e la loro saggezza diminuiscono. Questo è lo scopo della legge. Un esempio di principio si trova nella termodinamica. Un liquido è più freddo di un gas. Questo è un principio. Poiché questo è un principio non ci limita, ma ci abilita. Usando questo principio possiamo condensare ed espandere una sostanza tra stato liquido e gassoso per creare la refrigerazione. Con questo principio abbiamo più comprensione e più potere. I principi sono verità che creano libertà. Un esempio di legge si può trovare nella cultura della regalità. Un plebeo deve rendere omaggio al re. Questa è una legge. Siccome questa è una legge distrugge la libertà e rende schiavi. Sotto questa legge una persona deve tralasciare l'uso della sua mente, della sua parola e delle sue azioni. Deve credere di valere meno del re. Nota che a differenza del principio non c'è verità nella legge. Una legge distrugge la libertà perché è una menzogna. Un principio invece crea la libertà perché è conoscenza. Ciò che distrugge la libertà è il male e l'ignoranza. Il mondo è più semplice di quanto sembri. Le complessità si trovano in ogni aspetto delle nostre culture, delle nostre politiche e delle nostre economie. Ogni giorno la gente viene introdotta a nuove idee, a nuove direzioni, a nuovi punti di vista o a un nuovo stimolo del nostro mondo. Molte di queste idee sono perversioni di principi creati perché la gente reagisca in un certo modo specifico. Le società malvagie inventano idee per distruggere il libero pensiero delle persone. Alcuni dei nomi dati nel corso della storia a queste idee sono socialismo, fascismo, razzismo, comunismo, democrazia, lotta sociale, politicamente corretto, convenzioni sociali, decenza, regalità e terrorismo. Tutte queste idee sono state create esattamente per lo stesso scopo. Sono tutti modi per confondere le menti delle vittime della schiavitù. Tu sei in grado di capire tutto ciò che esiste nel mondo intorno a te. La tua intelligenza non è limitata. Le distorsioni e le complessità vengono introdotte nella tua conoscenza in modo che uomini malvagi possono controllarti. Il male vuole farti credere che sei incapace di capire il tuo mondo. Quando capirai la grandezza del tuo valore, il male fallirà. Ci sono due principi importanti per capire il concetto di intelligenza. Il primo è la semplicità. Il principio della semplicità afferma che l'intelligenza riconosce la verità. Quando una verità a qualsiasi è presentata in forma pura, tutte le persone sono in grado di comprenderla. Non c'è verità che non si possa imparare. Questo è il principio della semplicità. L'intelligenza riconosce la verità. Il secondo principio è il principio dell'offuscamento. L'offuscamento è la distorsione di un principio. L'offuscamento è la creazione di idee false per nascondere la verità. A volte questo avviene semplicemente con l'aggiunta di certe idee alla verità per occultare la natura della verità originale. Persino idee che sembrano del tutto appropriate possono essere usate per seppellire semplici verità. L'offuscamento usato dal male per confondere le menti delle persone. L'offuscamento distorce i principi in modo che le persone non siano in grado di impararli. Il male usa l'offuscamento per non far acquisire saggezza. Lo fa per limitare la tua libertà. La cultura sa che le persone scopriranno meno verità se sono concentrate su complessità artificiali. Quando i bambini crescono, imparano che idee apparentemente complesse sono in realtà semplici principi basilari. Ciò che ad un certo punto poteva sembrare impossibile da capire diventa meraviglioso una volta compreso. È un bene acquisire saggezza. E con la saggezza si può fare qualsiasi cosa. La tua ricerca di conoscenza diventerà più facile mano a mano che ti libererai di ogni nozione della tua inferiorità. Il male usa all'offuscamento per far sentire le persone inferiori. Non sei inferiore alle altre persone e non sei inferiore alle idee. Tu hai un valore infinito. Come essere umano sei molto speciale. Sei diverso dai minerali, dalle piante o dagli animali della terra. Non c'è nulla che padroneggi le capacità dell'intelligenza come te. Nessun altro ha una tale completa e totale ambizione di soddisfare i sogni. Nessun altro ha il desiderio e o la sete di conoscenza che tu possiedi. Tu sei un essere umano. Non c'è limite alla tua natura. Non c'è fine alla tua capacità di conoscenza o di felicità. Come essere umano la tua vita non è soggetta a nessuna volontà se non alla tua. Non hai bisogno di nessun permesso, favore o licenza per imparare e crescere. Tutto ciò che desideri può essere tuo. Le persone cercano naturalmente la felicità nella loro vita e il loro desiderio profondo più comune è l'amore e la forza della propria famiglia. Tutto ciò che fai aumenta la sicurezza, la pace e la prosperità per te stesso e per i tuoi cari. La tua capacità di creare queste cose dai desideri del tuo cuore viene propriamente definita come fiducia. Con la fiducia troverai gioia in ogni passo della tua vita. Fiducia è il coraggio di testare idee per scoprire la verità. Con la fiducia le persone scoprono se le idee sono vere o false. Con la fiducia le persone imparano i principi. Le persone usano la fiducia per fare progressi nella verifica dei principi. Si sbaglia spesso ma si impara sempre. Immagina di camminare su una superficie rocciosa. Forse ti aspetti una superficie solida che non si sposti. Se ti aspettavi un terreno solido ma invece poi trovi del movimento potresti inciampare. Quando le idee che stai testando sono sbagliate il tuo esperimento fallisce. La tua intelligenza ti aiuta ad adattare le tue considerazioni per capire meglio i principi del camminare. Impari a controllare il tuo equilibrio nonostante il terreno difficile. Usi la fiducia per mettere alla prova la tua nuova comprensione. Te presto puoi attraversare velocemente e con successo. Stai padroneggiando i principi. Ogni volta che gli esseri umani mettono in azione dei principi provano potere, eccitazione e gioia. Quello che la gente cerca è la realizzazione dell'intelligenza. Alcuni esempi sono un bambino piccolo che mostra con orgoglio ai genitori l'aver imparato ad allacciarsi le scarpe. Ho uno studente che padroneggia la comprensione della matematica. Ho un marito e moglie che risolvono una discussione. Questi sono esempi della scoperta di principi attraverso la prova della fiducia. L'applicazione della fiducia al principio porta a saggezza e la libertà è necessaria. La distruzione della libertà impedisce alle persone di usare la fiducia. Imperisce alle persone di mettere alla prova la loro comprensione dei principi. Quando non siamo liberi di avanzare non possiamo crescere. L'amore, la prosperità e la conoscenza sono tutte cose possibili solo con la libertà. La libertà porta tutto il bene. Come essere umano il grado di libertà di cui hai bisogno è infinito. La libertà è il valore infinito dell'essere umano. Se il male distrugge la libertà di una qualsiasi area della tua vita può limitare la tua saggezza, il tuo amore e la tua gioia. Ci sono persone che sono capaci di distruggere la tua libertà. Vogliono controllarti in modo che tu non possa diventare persona che vuoi essere. Per controllarti usano la forza per toglierti la libertà con cui sei nato. Non devi mai sottovalutare l'abilità o la crudeltà delle persone malvagie. Il male confischerà danaro, distruggerà virtù e spargerà sangue. La maggior parte delle persone non è malvagia. La maggior parte delle persone cerca di creare non di distruggere. Tuttavia le persone malvagie esistono e sono estremamente pericolose. Sono chiamate autorità. Non c'è nessuna autorità sulla terra che possa legittimamente governare la tua vita. Nato in questo mondo tu e solo tu controlli i tuoi occhi, le tue orecchie, la tua lingua, le tue mani e la tua mente. Ogni autorità che pretende di poter disporre di te e delle tue abilità è un inganno. Sei nato in questo mondo perché tu possa avere una vita libera. La vita è libertà. Con la libertà e la fiducia in questo mondo puoi imparare a fare qualsiasi cosa. Chiunque ti dica che devi cedere la tua mente, il tuo corpo, i tuoi beni e l'autorità è malvagio. Devi capire che le scelte fatte di tua spontanea volontà non sono malvagie. Non c'è niente di sbagliato né l'impegno se viene fatto volontariamente. Ma l'impegno senza scelta non è impegno. E schiavi tu. L'autorità fa sempre richieste alle persone usando la forza. L'autorità non chiede mai il permesso. Le autorità più semplici sono i ladri comuni. Usano l'estorsione o la furtività per confiscare cose di valore. Possono rubare soldi, la virtù, lo stupro o la vita con l'omicidio. Con le loro azioni ti insegnano che il tuo valore è inferiore a loro. Lo strumento della loro autorità è la violenza. Nella tua vita quotidiana ci sono altre autorità molto più potenti. Sono drammaticamente più pericolose, più redditizie e più subdole. Attraverso idee distorte ti insegnano che non sei capace o degno di vivere libero. Le autorità insegnano che altre persone possono gestire la tua vita meglio di te. Con un insensibile disprezzo per il tuo valore ti viene comandato di comportarti secondo le idee di qualcun altro. Il massimo pericolo si trova nella misura in cui questi ordini sono comunemente accettati come buoni. Li conosciamo come cultura. Puoi trovare tali sottofugi ovunque ci sia valore nella tua vita. Se qualcosa ti è prezioso, puoi essere sicuro che qualcuno da qualche parte è disposto a portartelo via. Sebbene causino lo stesso male del ladro comune, i metodi della cultura sofisticata sono normalmente molto molto più potenti. Il male non è l'oscurità e non è una spaventosa cosa sconosciuta. Il male non è una psicologia mistica dell'uomo, né è inerente alla nostra natura. Non è soprannaturale e senza dubbio esiste. Come tutti i principi, il principio del male è semplice. Il male è la distruzione della libertà. Quando sei libero puoi creare gioia, pace, prosperità e gioia nel mondo. Troverai tutte queste cose intorno a te. Uomini e donne come te hanno creato queste cose. Il male rende schiavi. Il male si trova in parole come obbligo, costrizione, tasse, violenza, furto, censura. Nota che non c'è gioia in queste cose. Non hanno alcun valore per l'umanità. Il male cerca di essere il tuo padrone. Il male vuole che tu sia schiavo. Ciò che consideriamo vera schiavitù è in realtà solo una forma della schiavitù. Gli schiavi africani degli Stati Uniti erano costretti a lavorare e a faticare per il beneficio di altre persone. Le loro vite erano controllate in gran parte per il vantaggio del padrone, ma avevano alcune libertà molto limitate. Alcuni furono in grado di creare delle tradizioni distinte e mantenere delle famiglie. Fecero il possibile per creare della gioia nella loro vita, nonostante la tirannia inflitta su di loro. La schiavitù esiste ovunque la libertà dell'uomo venga distrutta. Il furto e la prepotenza sono schiavitù. Il male è tutto ciò che limita la tua mente, i tuoi movimenti, la tua parola. La schiavitù si trova nella distruzione della libertà sia parziale che totale. Sei nato in questo mondo sovrano della tua mente e della tua vita? Le tue capacità di pensare, sentire, imparare ed amare sono le due libertà. Queste tue capacità sono infinite. Quindi tu hai valore infinito. Il male cerca di distruggere la tua libertà. Cerca di avere autorità su di te. Non vuole che tu abbia libertà. Cerca di distruggerti per poterti usare come un burattino. L'applicazione del male si chiama autorità. L'autorità è ciò che il male mette in atto quando esercita il controllo sulla vita della gente. L'autorità limita la tua capacità di imparare, di pensare, di sentire, di amare e di crescere. Ecco perché l'autorità è il male. Le autorità non sono coincidenze. Sono semplicemente create da persone intelligenti per controllarti. Ci sono due strumenti che il male utilizza per realizzare questo. Entrambi gli strumenti distruggono la libertà. Sono il conformismo o la cultura dominante e la violenza. L'autorità usa le armi della violenza su tutti quelli che non obbediscono e usa le armi della cultura o del conformismo per mantenere l'obbedienza che riesci ad ottenere. Il tuo corpo fisico ti permette di esercitare i principi su ogni aspetto della realtà. Con esso hai gli strumenti necessari per interagire con il mondo fisico. La fisicità ti permette molto. È un dono di pura libertà. La gente obbedisce all'autorità quando è sottoposta a violenza. La violenza minaccia il tuo corpo fisico, minaccia i tuoi rapporti con il mondo fisico. Le persone che sono soggette a violenza sono costrette ad obbedire perché vogliono proteggere la libertà data loro dal corpo. Dolori e mutilazioni limitano la tua capacità di interagire con il mondo e la morte distrugge completamente la tua libertà. La menzogna della tirannia è che tu potrai mantenere la libertà della tua vita obbedendo all'autorità. Le culture del mondo offrono ai loro popoli diverse moralità. Definizioni perverse di bene e di male si possono trovare ovunque sul pianeta. In una cultura una cosa è appropriata e in un'altra è tabù. In una cultura una parola è oltragiosa e in un'altra no. Gli atti criminali sono definiti in modo completamente diverso in culture opposte. Quando viene stabilita l'autorità tra la gente il male è ovvio da vedere o quasi impossibile. Dipende esclusivamente se si appartiene o meno alla sua cultura. Anche se poche persone sono in grado di riconoscere l'oppressione dalla loro propria cultura la cultura rimane comunque oppressione. La maggior parte delle persone si chiede con orrore come un comune soldato tedesco abbia potuto prendere parte all'assassinio degli ebrei. La maggior parte delle persone si domanda con orrore come milioni di persone comuni sotto il comunismo abbiano portato a morte certa ai loro fratelli per mano della polizia. Gli esempi nella storia sono più che abbondanti. Esistono in ogni cultura che sia mai stata creata. La cultura mantiene una presa mortale sulla natura dell'uomo. Non è vero che i cattivi della storia hanno abusato delle autorità. La verità è che hanno seguito perfettamente l'obiettivo e il disegno dell'autorità. La tirannia è sempre mascherata da cultura e da legge. Il principio dell'autorità descrive il comportamento delle persone che vivono sotto il primato del diritto della legge. Il principio dell'autorità mostra che le persone obbediscono a qualsiasi cosa e a chiunque credano sia un'autorità. Anche se il chi, il perché e il cosa cambiano nel corso della storia, il comportamento delle persone è sempre lo stesso. Obbediscono. Quando si insegna alle persone che l'obbedienza è un principio, obbediscono. Quando si insegna loro che la fonte del valore e della conoscenza si trova in un'altra persona, piuttosto che loro stessi, obbediscono. Quando è il primato della legge e insegna le persone che la loro virtù, la loro volontà è soggetta alla volontà delle leggi e di coloro che controllano la legge, obbediscono. Esempi di autorità sono gli stati, gli prepotenti, le mafie, i ladri e i re. Le persone obbediscono all'autorità nelle loro vite o per paura della violenza o perché la cultura le condiziona ad accettare l'obbedienza come corretta e giusta. Le autorità usano sempre entrambi gli strumenti. Le autorità di maggior successo non hanno bisogno di usare spesso la violenza a causa della forza della loro cultura. Sia la cultura che la violenza impongono l'autorità. Sotto l'autorità le persone hanno obbedito alla legge durante l'eutrocità della storia. Gli omicidi, gli stupri, i saccheggi commessi sotto i capotribù, i re, gli imperatori, il comunismo, il nazismo, non furono perpetuati da ristretti gruppi di persone. Furono commessi da migliaia e persino milioni di uomini. Questi non avrebbero commesso da soli delle nefandezze così vergognose. Io lo avesse ordinato una persona qualsiasi si sarebbero rifiutati. Allora perché, per ordine di una percepita autorità, obbedirono. L'obbedienza all'autorità è il principio dell'autorità. Le persone obbediscono all'autorità a prescindere da cosa sia chiesto loro. Obediscono perché sono state ingannate. Gli è stato falsamente insegnato che il principio si trova nella legge. Storicamente è difficile immaginare perché certe culture siano così tanto più violentemente depravate di altre. ma la ragione è l'autorità. Le culture con l'autorità meno influente sono le più pacifiche e per definizione le più libere. Le culture con le autorità più influenti sono le più violente e per definizione schiave. Ogni volta che vieni costretto ad agire obbedendo all'autorità sei influenzato da questo principio. Distruggere la tua identità per ottenere potere su di te è il modus operandi dell'autorità. Dunque ogni tirannia sarà sempre mascherata da cultura e da legge. Ma prima che l'autorità si possa stabilire deve avvenire una guerra, una crisi. La guerra è l'attuazione della violenza. È lo strumento che il male usa per stabilire l'autorità. Tutte le guerre della storia sono avvenute a causa dei desideri di imporre una nuova autorità sulle persone. Su piccola scala questo succede attraverso un processo di minaccia e accettazione. Questo è il comportamento dei bulli, dei delinquenti e dei mafiosi. Su larga scala accade con violente battaglie pluriennali. Questo è il comportamento delle nazioni e degli imperi. Per offrire alle persone una fuga dalla violenza le nuove autorità insegnano alla gente che l'obbedienza porrà fine alla guerra. Il disegno dell'autorità è l'obbedienza. Le autorità conizionano le persone all'obbedienza promettendo loro protezione da pericolosi nemici. Le eteocrazia hanno usato il nemico della blasfemia. I nazisti hanno usato gli ebrei. I comunisti hanno usato i ricchi. Sono stati creati moltissimi nemici ma di gran lunga il più comune è l'anarchia. Per costruire una cultura e corrompere il libero pensiero degli uomini il male deve creare un nemico. Per i tiranni non è importante chi sia il nemico. I tiranni offrono protezione da questi nemici in cambio di obbedienza. Nota bene che offrono protezione ma l'obbedienza è obbligatoria. Che tu desideri o meno avere un'autorità sopra di te dovrai obbedire o ricorreranno alla violenza. I nemici sono creati solo per alleviare il peso dell'obbedienza nella mente della gente. I nemici culturali sono un'illusione. Benjamin Franklin mi ha insegnato che coloro che rinunciano alla libertà per guadagnare sicurezza presto non avranno né l'una né l'altra. Questa è un'osservazione futile. Lo schema della tirannia mostra chiaramente che è proprio per convincerti a cedere la tua libertà che ti viene presentato il bisogno di sicurezza. Questo è tutto ciò che l'autorità vuole. La domanda di sicurezza viene aumentata da coloro che cercano potere su di te. è così che creano i nemici. Non fa intendere non è il nemico che i tiranni cercano. Cercano te. L'illusione dei nemici culturali è creata in modo da limitare il pensiero della gente. È ideata per convincere le persone che il loro nemico non è il male che domina su di loro ma un qualche demone immaginario che potrebbe fare loro del male. Questa è la menzogna della tirannia. La tirannia è mascherata da cultura e da legge. Quando le persone iniziano a sottomettersi alla volontà della nuova autorità, un principio noto come prova sociale entra nella cultura. Più persone obbediscono alla nuova autorità, più è probabile che altri la seguano. La normalità dell'obbedienza diventa parte della vita quotidiana. È naturale voler sfuggire alla violenza dell'autorità. Le persone che vivono sotto l'oppressione di nazioni o di criminali accettano inevitabilmente l'offerta dell'obbedienza. Un rapinatore offre di non sparare se gli cedi il portafoglio. Gli stupratori offrono di non uccidere se gli si arrende la virtù. Le mafie offrono di non torturare se le si pagano. Gli stati offrono di non rovinare la vita se le leggi vengono rispettate. L'offerta è addolcita dall'illusione dei nemici. Quando una persona si trova di fronte a dolore o morte certa da una parte, o dalla protezione da un nemico o dall'altra, la volontà di mantenere la propria libertà alla fine si rompe. Le leggi sono decretate e scritte per legittimare l'obbedienza. La legge impersona i principi. Alla gente viene insegnato che ciò che è legge è giusto. Non gli viene insegnato a fare ciò che è giusto, ma ad obbedire a ciò che è legge. La legittimità della legge è lo scopo della cultura. La cultura usa la legge per conformare elementi delle persone, per convincere loro di essere incapaci di cercare la verità o di vivere in pace. Insegna che la legge è legittima invece della propria mente. L'arma principale della cultura è il controllo della parola. Benché la storia abbia mostrato esempi violenti di quest'arma, essa esiste in ogni cultura come il codice di comportamento o di decoro. L'obiettivo del controllo della parola è di assicurarsi che coloro che sono stati costretti a piegarsi alla volontà dell'autorità non abbiano mai il coraggio di guardarsi indietro. Per mantenere l'obbedienza, la cultura esige che tutti coloro che sono stati resi schiavi impongano la loro volontà a coloro che li circondano. Insegna le persone a chiamare i loro recalcitranti vicini, strani o pazzi. Esige che ogni persona si rivolti contro chi non obbedisce ai precetti della cultura. La cultura condanna come immorale e antisociale chiunque non obbedisca ai suoi dettami. In questo modo, limitando la loro parola, la cultura modella le menti delle genti. Inoltre, la cultura dota i suoi evangelisti di aggettivi come nobili e virtuosi. Coloro che seguono le sue regole più strettamente, specialmente nel condannare nemici, sono premiati quando infliggono una stigma a chi è meno disposto ad obbedire. È questa svalutazione dello spirito umano che dimostra la malvagità delle norme culturali. Coloro che si mostrano recalcitranti o che suggeriscono la ribellione contro l'autorità sono ostracizzati, rimproverati e demonizzati. È per molti difficile sopportare la solitudine associata all'essere fuori dalla cultura dominante. Questo è il modo in cui il controllo della parola è un'arma ideata per spezzare lo spirito dell'uomo. È un'arma disegnata per costingerti all'obbedienza. Quando le persone sotto una data cultura iniziano ad imporre il controllo della parola agli uni e agli altri, l'autorità è stabilita. A questo punto essa governa le stesse persone che impongono il suo potere. Questo è il disegno della cultura e l'autorità può adesso fare di te ciò che vuole. Ci sono momenti in cui l'autorità deve tornare a ricorrere alla violenza per mantenere l'obbedienza. Ci sarà sempre una piccola minoranza che rifiuta di obbedire al canone della legge culturale. Per questo le autorità impiegano un costante flusso di violenza noto come forza dell'ordine. Non si tratta di polizia in difesa della libertà ma di polizia in difesa dell'autorità. Le culture insegnano sempre che la libertà e l'autorità sono la stessa cosa. è lo scopo delle forze dell'ordine, lo dice stesso la parola, è quello di brandire le armi della violenza per mantenere l'autorità. Non è quello di difendere la libertà. L'autorità deve anche impiegare la violenza quando le culture degradano. Nel corso della storia i popoli, lentamente ma costantemente, sono venuti sempre più a conoscenza del loro proprio valore, richiedendo quindi sempre più libertà. Molte culture sono cadute quando le persone hanno realizzato che la cultura è una bugia. Quando le culture cominciano a crollare è perché le persone stanno scoprendo il loro valore. Tali culture e le autorità che esse proteggono sono condannate. Mai una volta nella storia una cultura in declino si è salvata. Quando le autorità vedono che la loro cultura sta venendo smantellata e si rendono conto di non godere più dell'obbedienza, ritornano alla violenza. Questi ritorni alla violenza sono storicamente estremamente brutali. E' questo il segno dell'arrivo della libertà. Guardiamo ad un generico esempio storico dello schema della tirannia. Un rozzo criminale riunisce una banda di uomini per estorcere danaro alla gente che vive nella sua area. Avendo successo ruba enormi quantità di soldi e fa diventare la sua banda un esercito. Riesce ad uccidere i precedenti ufficiali delle forze dell'ordine o a sovvertirli con sotterfugi. Sapendo di poter ammassare più ricchezza a lungo termine lasciando vivere le sue vittime, implementa una tassa su tutti coloro che si trovano nel suo raggio di influenza. Segna confini, emette decreti, soprattutto promette alle sue vittime protezione da tutti gli altri criminali. Le sue vittime lentamente si abitano alla sua volontà e alle sue menzogne. Le persone iniziano a spaventarsi se sentono i loro vicini anche solo parlare di sfuggire alle tasse e alla crudeltà. In poco tempo sostengono attivamente il regime prendendo di mira tutti i discorsi di tradimento, consegnando alle autorità chi non si conforma. Il criminale che originariamente era chiamato delinquente ora è chiamato autorità, è chiamato ordine pubblico. Questo esempio potrebbe descrivere facilmente qualsiasi banda di barbari del medioevo o della storia antica. Potrebbe applicarsi ad ogni re o imperatore del passato. Potrebbe descrivere qualsiasi signore della guerra di oggi o qualsiasi mafioso. In realtà è molto simile ad ogni autorità mai esistita. Una volta che le persone sono condizionate ad accettare l'idea dell'autorità, d'abitudine obbediscono senza pensare. L'obiettivo della legge è l'obbedienza. L'istruzione della libertà si trova nella cecità di questa obbedienza. Il principio dell'autorità mostra che anche quando una persona generalmente pensa che un'azione sia sbagliata, quando gli viene ordinata da un'autorità, la compie comunque. L'istituzione e l'esercizio dell'autorità sulle persone è chiamato lo schema della tirannia. Schema applicato anche nelle democrazie. Democrazie che creano il nemico nell'anarchia nello stesso modo. Controllando la parola. Diventa immorale suggerire che si possa infrangere la legge, non importa quale legge o cosa dica. La nobiltà è posta sul pagamento delle tasse, non importa quanto ti chiedano. La più alta forma di decoro culturale è obbedire alla legge, indipendentemente da ciò che dice. Il nemico è l'anarchia fittizia, dove nessun individuo è al sicuro, perché tutti sono tiranni. Per salvarti dall'anarchia cedi l'autorità alla legge e obbedisci. Il male non cerca la distruzione dell'anarchia, cerca te. Se riesci a vedere la tirannia in una cultura che esige che tu obbedisca, a prescindere da cosa ti venga chiesto, è da chi scriva le leggi. Allora stai cominciando a capire la natura del male. Tutto ciò che è male ti insegna che hai valore limitato. Il primato della legge è la singola idea più pericolosa mai inflitta all'umanità. Ha assunto innumerevoli nomi nel corso dei secoli della storia. Nelle tribù più elementari è conosciuto come rispetto per gli anziani. Nella tirannia dei reali è conosciuto come nobiltà, diritto di nascita e divinità. Nel comunismo è conosciuto come supremazia dello Stato. Nelle dittature è conosciuto come antidoto all'anarchia. Nelle teocrazia è conosciuto come rivelazione. L'insegnamento base di questa idea è che bisogna obbedire alla legge, non per i suoi meriti o per la sua moralità. Si deve obbedire solo perché è la legge. Si presume che anche se la legge fosse sbagliata è giusto seguirla perché sostiene il sistema e il sistema è più importante di te. Affinché una persona intelligente possa scegliere ciò che è giusto, deve sapere chi le sta chiedendo obbedienza, deve considerare perché e cosa le viene chiesto di fare. Solo allora può decidere da sola se è giusto. Questo non è quello che vuole l'autorità. All'autorità non interessa che tu faccia ciò che è giusto, le importa solo che tu obbedisca. La cultura dominante insegna che il rilevante è la natura della legge è ciò che ti chiede di fare. La cultura insegna che l'obbedienza è decoro. La cultura insegna che quando una legge viene creata diventa morale. La legge dunque è un'arma ed è usata dal male per attaccare la sua preda. Che si è nome del dovere verso il re, della lealtà verso lo stato, dello stato di diritto, la legge è l'arma usata per estorcere e controllare. La cultura sostiene la nobiltà della legge. La cultura insegna che la legge è buona e giusta. Non mette mai in dubbio chi ha scritto la legge, il tiranno e il fratello sono uguali. La cultura non si chiede mai se la legge sia giusta o meno. Devi obbedire, non importa cosa dica. In questo modo la legge è un'arma potente da usare contro di te. Tutte le giurisdizioni creano volumi di leggi che richiedono una vita per capirli ed eserciti di avvocati da manipolare. Tutte queste cose sono armi nelle mani dei potenti che useranno a tue spese. La legge ha valore solo per coloro che la creano e solo perché la tua cultura esige che tu le obbedisca. Il perfetto invito alla tirannia è il tuo impegno ad obbedire alla legge, indipendentemente da cosa dica. Contro di te la legge diventa l'arma perfetta. Chi controlla la legge controlla te. Il tuo valore è misurato dalla misura della tua obbedienza. Le culture nascono per proteggere le strutture del potere. La cultura è un cendarme dell'autorità. La cultura distorce i principi per difendere l'autorità del male. La cultura deve convincerti che non è sbagliato quando la legge sottomette il tuo valore e distrugge la tua libertà. ci riesce corrompendo il concetto di moralità. La prudenza è la corretta applicazione dei principi. L'imprudenza è idiozia e la prudenza non è moralità. Non è immorale prendere a calci una grossa roccia a piede nudo ma probabilmente è stupido. La prudenza dunque è una questione di applicare i principi e la saggezza che hai acquisito nella tua vita per raggiungere gli obiettivi che hai per te stesso. Questo è reso possibile dalla libertà. Senza libertà la prudenza non ha senso. La moralità deve venire prima della prudenza. La grande menzogna della cultura è che l'autorità non è vincolata dalla moralità e che l'autorità può imporre la propria prudenza su di te. La grande bugia della cultura è che tu vali meno della legge. Le culture insegnano che l'intenzione di prudenza può venire imposta dalla legge. In questo modo ottengono il pretesto per controllare le vite delle persone. Per imparare, crescere e trovare felicità le persone devono essere libere di mettere alla prova la propria comprensione dei principi. Con la libertà possono farlo attraverso un processo di fiducia, prova ed errore. In questo modo i bambini crescono dall'immaturità alla maturità. In questo modo gli esseri umani acquisiscono saggezza. La cultura diffonde la menzogna che l'autorità non è vincolata dalla moralità. Insegna che l'autorità può distruggere la libertà quando vuole e rivendica la prudenza come la ragione per cui tu dovresti sottometterti volentieri. In nome della tua difesa, la cultura sostiene che la distruzione della libertà è la moralità. Le culture fingono che il male sia il bene e che il bene sia il male. Puoi trovare prudenza tutto intorno a te. La trovi nelle scelte che fai ogni giorno. Anche quando sbagli impari la prudenza. La prudenza non può essere imposta. Imporre la prudenza è legge e la legge è menzogna. Senza la libertà di scegliere non puoi imparare la prudenza e quindi non puoi essere felice. Ovunque trovi immoralità trovi miseria. La cultura impone l'autorità distruggendo la libertà con la legge. Questa è l'immoralità. La parola è controllata dalla cultura perché la parola fa avanzare la saggezza. La comunicazione umana accelera esponenzialmente la crescita e l'apprendimento. Le persone imparano i principi da sole sperimentando con il loro ambiente ed imparano molto più velocemente quando possono comunicare i loro pensieri attraverso la parola. La parola è il più potente strumento dell'umanità. Con essa bambini e adulti accelerano la conoscenza di qualsiasi cosa desiderano imparare. La cultura non può permettere la rapida diffusione della conoscenza umana. Se le persone capissero il loro valore e il loro potenziale non si sottometterebbero mai alle autorità artificiali possesso di loro. La cultura è dunque una questione di controllo. Le culture sono ideate per proteggere i per proteggere quelle in posizione di autorità. Il compito della cultura è di assicurarsi che la parola non possa circolare liberamente. Per fare ciò stabilisce un modello di sovversione del pensiero e di correttezza della parola. Innanzitutto la cultura etichetta la messa in discussione dell'autorità come immorale. Il primato della legge, il rispetto assoluto delle forze dell'ordine, il carattere in politica e la nobiltà del re sono tutti esempi di sovversione culturale del pensiero. La cultura non può permettere alle persone di mettere in discussione la loro fedeltà ad una legge specifica, ad un re in particolare, ad uno specifico sistema di autorità. Invece insegna che queste cose sono al di sopra di qualsiasi discussione. Quando l'autorità utilizza la legge per difendersi con la violenza ti insegnerà che tu sei immorale anche solo per pensare di difenderti da essa. Tabù minori sulla messa in discussione dell'autorità sono esistiti in forme diverse nelle varie culture nel corso della storia. Un esempio si trova nella convenzione che pagare le tasse sia nobile. Non una sola persona le pagherebbe se non fosse obbligata. Non una sola persona paga un dollaro in più di ciò che gli viene richiesto sotto la minaccia di imprigionamento. Eppure in ogni cultura si sente la gente parlare della nobiltà di pagare le tasse. Contribuente è il titolo che viene dato da chi cerca legittimità in dibatti di politici. La cultura insegna che le brave persone sono coloro che si lasciano estorcere e controllare senza pensare. Nello stato di diritto l'obbedienza alla legge arbitraria è etichettata come carattere. Quando più una legge è distruttiva per l'umanità tanti più elogi di nobiltà verranno elargiti dalla cultura chi la obbedisce. Se l'autorità non viene messa in discussione, se viene accettata come il giusto governante della comunità, il risultato è la schiavitù. I tedeschi non contestarono la cultura imposta loro dal partito nazionalsocialista. Il risultato fu la loro servitù ad Adolf Hitler e alla sua macchina da guerra. I leardi di persone non contestarono la cultura di comunanza promossa dal comunismo. Il risultato fu la schiavitù totalitaria e la morte di cento milioni di persone. Grande o piccola che sia, quando cedi la tua mente alla cultura, essa farà di te uno strumento per i suoi scopi. Questo comincia quando limiti il tuo linguaggio per paura della cultura. Il passo successivo nella manipolazione culturale della parola è la creazione del decoro e della cortesia. Questi definiscono i nemici fittizi della società su cui la cultura vorrebbe che ci si concentrasse invece che sull'autorità. Sono architettati arbitrariamente per distogliere l'attenzione dal male dell'autorità. Il politicamente corretto è una schiavitù progettata. Concentra l'attenzione sul controllo del linguaggio delle persone in modo tale da far credere loro che il nemico sia la maleducazione. Si insegna loro a credere di essere naturalmente razzisti, sessisti e bigotti. Solo quando la cultura mantiene uno stretto controllo sulla parola, la gente al sicuro dai suoi stessi demoni. La cultura insegna il valore limitato delle persone, senza considerare che è stata la stessa cultura del passato, a ingenerare principi di razzismo, principi di sessismo. La volgarità del linguaggio è il vergognoso pronunciare di parole o concetti al di fuori del decoro culturale. Mentre non c'è nulla di male in una parola e le lingue vengono inventate e modellate ogni giorno, la cultura vorrebbe farci credere che il male vive nelle parole che usiamo, non nella frantumazione dello spirito umano impiegata dall'autorità. Una maledizione è un augurio di qualche male su una persona, un'imprecazione o un giuramento d'azione. Eppure entrambe queste cose sono state corrotte in modo da insegnarti che è la stessa parola ad essere malvagia, non la distruzione della libertà portata dalle persone malvagie. Ogni volta che si trova un elemento del linguaggio che è culturalmente inaccettabile da pronunciare, si troverà un capro espiatorio. Casi specifici sono irrilevanti. La cultura crea sempre il decoro per nascondere la tirannia. All'inizio del movimento nazionalsocialista in Germania, la cultura fu progettata in modo da far diventare disdicevole la difesa di un ebreo. Allo stesso modo, rese maleducato sfidare coloro che condannavano gli ebrei. Questo schema si trovi in ogni cultura mai creata. La cultura nazista non mirava al controllo degli ebrei, ma al controllo dei tedeschi. Nota del lettore, è un po' la stessa etichetta che vengono date a complottisti, no vax, no guerra, negazionisti. Torno alla lettura. Per liberarti della schiavitù del controllo della parola, devi capire il principio dell'offesa personale. Se sei offeso da una parola o da una frase, allora hai scelto rabbia e dolore per te stesso. La cultura vorrebbe farti credere che ciò viene imposto su di te, ma questo non è vero. La cultura vorrebbe farti credere che il male si trova nelle discussioni di idee o nel passaggio di insulti intenzionali o non intenzionali. Vorrebbe farti credere che il male in una società si trova in certe parole o in certe allusioni. Se il male può creare il nemico dalla parola, può convincerti a cedere al suo controllo. Questo è il disegno e lo scopo della cultura. Sebbene le persone si sentano sempre del tutto giustificate ad offendersi delle parole, è comunque sempre completamente una loro scelta. Quando ascoltano le idee di un'altra persona, hanno la libertà di provare quello che vogliono. Eppure la soluzione offerta della cultura è quella di forzare il linguaggio, in modo che favorisca il gusto di quella data cultura. Una volta che si arriva a credere che il controllo della parola sia nobile, ci si assoggetterà all'autorità. La cultura arbitraria si trova tra gli adulti ovunque nel mondo, ma è ancora più facile da vedere tra i bambini. La cultura crea idee di compulsione per lo stile, per l'immagine del corpo e per le azioni. Preferire il rosa al blu è una preferenza personale. Indossare il blu perché si ha paura di indossare il rosa è la distruzione portata dalla cultura arbitraria. Le culture limitano le scelte disponibili alla gente, creando regole arbitrarie per la tua vita e facendole rispettare con la pressione tra pari. L'oppressione dello spirito delle persone permette alla cultura di ottenere la loro obbedienza. Quando le persone hanno paura di camminare a testa alta perché credono di non essere abbastanza attraenti, ricche o istruite, la cultura sta schiacciando il loro spirito e insegnando loro che hanno un valore limitato. Chi non conosce il proprio valore è facile da controllare. Le persone fatte tra bambini sono un esempio della cultura del male più potente. Quei bambini che sono più capaci a capire come conformarsi alle norme culturali e come farle rispettare a tutti gli altri il più severamente sono quelli che guadagnano il potere sociale. Questo è un tipo e un'ombra della cultura delle nazioni dei re. Un cittadino modello di una cultura è uno che si modella esattamente secondo gli ideali di quella cultura e il sistema la premierà. In teoria questo vuol dire stile, linguaggio, educazione ed economia ma in realtà questo significa obbedienza. La cultura insegna le persone ad idolatrare il cittadino perfetto. Lo fa perché desidera anche la tua obbedienza. I poteri dell'autorità e dell'obbligo in tutti gli ambiti della vita ricompenseranno sempre i cittadini modello con simboli di nobiltà e puniranno sempre con umiliazione e derisione coloro che non riescono a soddisfare gli standard di servitù. Tale è la creazione di una cultura. Tale è la creazione di schiavi. Questa rottura dello spirito umano, dell'individualità, alla fine costringe tutti a conformarsi. Pochissimi e anche solo penseranno di combattere la struttura del potere. Quasi tutti accetteranno l'autorità. La cultura insegna che l'arroganza è un'ingiustificata valutazione di se stessi. Ma tu sei un essere di valore illimitato e la cultura ti sta mentendo. L'arroganza è condannata dalla cultura perché la cultura non vuole che le persone capiscano quanto valgono. Confonde di proposito i significati di arroganza e presunzione. La presunzione è credere di avere più valore degli altri. Tutte le persone hanno valore infinito. Essere presuntuosi è degradare il valore di coloro che ti circondano. L'autorità è la presunzione massima. Tiene le persone in basso affinché non pensino che siano loro stesse ad avere valore e non la legge. Se le persone non fossero così facilmente influenzabili dalle norme della cultura, riconoscerebbero che tutte le persone hanno lo stesso valore. Esulterebbero vedendo l'arroganza di una persona che ha più fiducia in se stessa di loro. Se una persona arrogante ha un gran valore, allora vuol dire che ce l'hanno anche loro. La cultura condanna l'arroganza per schiacciare lo spirito della fiducia. Senza cultura le persone si lascerebbero andare all'ispirazione che le persone arroganti forniscono. L'arroganza di credere di poter volare, di curare le malattie, di compiere meraviglie. L'arroganza di suggerire che ci si può governare da soli. L'entusiasmo per la vita viene spesso ridicolizzato dalla cultura. Coloro che si emozionano davanti alla meraviglia e alla bellezza del nostro mondo corrono il rischio di capire quanto valgono. Questo non è qualcosa che la cultura può permettere. Entusiasmo ed emozione sono permessi solo in forme limitate e predefinite. Ogni cultura è diversa ma tutte forniscono direzioni e sbocchi accettabili per l'eccitazione. Questi sbocchi dirottano l'espressione arrogante dell'entusiasmo in modo che non ispiri altri. La cultura liquida le conquiste come impossibile per le persone comune. Insegna che la maggior parte della gente può solo aspettarsi un limitato successo nella vita. insegna le persone ad accettare che i sogni sono irraggiungibili. Senza eccezione la ragione per cui i sogni sono così difficili da realizzare è a causa della cultura. Le leggi, il controllo e la distruzione dello spirito umano limitano la nostra capacità di realizzazione. La cultura ha molte varianti della frase solamente un essere umano in ogni lingua. Questa frase fondamentalmente implica il valore limitato delle persone. Questa frase è una bugia. Le persone hanno una capacità illimitata di intelligenza. Cose che erano ritenute soprannaturali in tempi antichi sono normali oggi. Principi che sono incredibilmente complessi diventano semplici per essere intelligenti man mano che vengono compresi. Con la libertà più si apprende più la soggezza apre la mente alla purezza della nostra realtà. Le culture insegnano spesso che l'intelligenza è ereditaria. Insieme alla nozione che i potenti sono più intelligenti. Questo insegnamento è ideato per implicare che coloro che sono in una posizione di autorità vi appartengono di diritto. È concepito per insegnare che l'intelligenza delle persone è limitata dalla costruzione fisica del loro cervello. Coloro che non sono in una posizione di autorità sono solo ovviamente qualificati per governare se stessi. La cultura ha bisogno che la gente accetti la limitazione per ingoiare l'obbedienza. la cultura ha bisogno che la gente accettate. La cultura ha bisogno che la gente accettate. «L'escizio». 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.